Si terrà domenica prossima la cerimonia per il passaggio delle consegne al Rotary Club Roccadaspide Valle del Calore. L'appuntamento è fissato per le 12 presso l'azienda agrituristica al Gatto Verde di Altavilla Silentina. Il cerimoniale prevede il passaggio del collare dalle spalle del presidente uscente Mario Tiso a quello entrante per l'anno 2015-2016, Carmine Maraio, in una cerimonia piena di fascino e di significato per tutti i rotariani e non solo.